È stata inaugurata giovedì 22 ottobre la nuova sede dell'Informa Giovani che avrà un luogo dedicato all'interno della biblioteca Francesca Calvo di Alessandria in piazza Vittorio Veneto. Il servizio, gestito dall'azienda ASM Costruire Insieme, presieduta da Cristina Antoni, occuperà la storica sala Bobbio e gli uffici adiacenti al piano terra del complesso. È proprio nella programmazione che ci siamo dati come amministrazione di poter riorganizzare e rivedere un po' gli spazi di riferimento a quell'utenza che con l'Informa Giovani andiamo a rivolgerci. Si era pensato già da tempo di poter realizzare questo spazio dove di fatto i giovani passano un po' più di consueto. Quindi quale migliore postazione se non quella legata alla biblioteca, di passaggio sulla biblioteca dove comunque c'è un'utenza giovanile molto forte per poter dare tutto quello che sono le opportunità, i servizi e il sostegno, perché poi comunque come sportello veramente c'è una grande informazione che viene data ai nostri giovani su come comportarsi, su come potersi muovere, come agire in determinati settori, soprattutto quel mondo che lega la realtà studentesca e giovane rispetto al mondo del lavoro. Quindi sotto questo aspetto massima attenzione. Arriviamo ad aprirlo purtroppo in un momento di Covid con tutti i limiti che ci impongono oramai queste norme ma non ci siamo fermati. Quindi era giusto poter dare questa opportunità, far ritornare il servizio dell'Informa Giovani in un luogo consono e di abitudine, di passaggio per i giovani e questo siamo qui oggi ad inaugurare. Per l'occasione è stato anche esposto un mosaico dell'artista contemporanea Lady B. Lady B per inaugurare la nuova sede dell'Informa Giovani, un servizio che fiora l'occhiello dell'azienda speciale Costruire Insieme e quindi va rappresentata degnamente questa apertura all'interno della biblioteca civica Francesca Calvo con un artista giovane, Lady B, che ha inventato i mosaici contemporanei creando delle icone pop, delle icone del Novecento e anche del passato perché ha creato anche dei volti storici e molto espressivi pur usando materiali da riciclo, quindi piccoli giocattoli, materiali da collezione oppure addirittura degli scarti in plastica proprio per mandare un messaggio forte riguardo al riuso del materiale che noi normalmente scartiamo. Quindi dei messaggi forti anche per le nuove generazioni che sono quelle che fruiranno di questi servizi, di questi uffici che riapriranno ovviamente nelle modalità in cui sarà possibile fare nei prossimi giorni. Ecco invece quali saranno i servizi dell'Informa Giovani offerti in totale sicurezza. Allora l'Informa Giovani riapre domani 23 ottobre 2020 presso la biblioteca civica. Ci auguriamo che questa nuova apertura sia una fonte di segnergie con un'istituzione importante come la biblioteca anche perché l'Informa Giovani ha portato qua tutti i suoi servizi storici di sostegno alla ricerca attiva del lavoro e all'orientamento. Ovviamente il servizio funzionerà in modalità diverse per tutte le regole di sicurezza legate al protocollo Covid. Quindi si potrà accedere su appuntamento, prendere l'appuntamento è molto facile, si può fare una telefonata al numero verde 800 116667, mandare un'email a informagiovani.it o sul nostro sito www.informagiovani.al.it Basta un semplice clic e verrete ricontattate dalle operatrici per un appuntamento in presenza oppure anche a distanza perché l'Informa Giovani in questi mesi ha sempre funzionato a distanza e quindi per chi preferisce non avere contatti interpersonali abbiamo anche questa modalità che manterremo.